E' il mio? E' il chi? Cazzo lo so Il mio telefono hai visto? Dove l'ho messo? Guarda nella borsetta Ah, nella borsetta Borsetta Arrivo, ma chi è che mi chiama a quest'ora? Non ho neanche gli occhiali Cosa? 3, 4 Chi è? Non so, rispondi e vedi Gli occhiali, mi hai visto dove sono? Gli occhiali Guarda, ce ne li affianco 3, 4, 5, 5, 5, 5 Io non lo conosco però questo Rispondi Pronto a chi parla? Qualche call center Pronto a chi parla? Ciao Gisela Ciao, come stai? Guarda, credevo fosse qualche call center Che mi chiama sempre ogni giorno